ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui in un nuovo video di investire consapevole oggi vorrei parlarvi di come investire durante i mercati ribassisti perché questo è uno dei temi più importanti da approfondire per noi investitori perché in questo momento ragazzi che si costruisce la fondamenta per quello che sarà il guadagno nel prossimo bull market e nel futuro nel lungo termine ma prima di iniziare di addentrarci e di capire che cosa sta succedendo e cosa bisogna fare durante i mercati ribassisti ragazzi come sempre vi ricordo che questi video non sono sponsorizzati quindi l'unico favore che vi chiedo per aiutarmi con l'algoritmo di youtube e per aiutarmi a far crescere il canale è quello di lasciare un bel like a questo video iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti ma iniziamo immediatamente cercando di capire che cosa sta succedendo infatti attualmente pare sia arrivata la stagione degli orsi il cosiddetto bear market inflazione tassi di interesse alti mercato azionario ribassista sono una serie di problemi che stiamo andando ad affrontare in questo periodo attualmente ragazzi è arrivato il bear market almeno così dicono i dati guardando l'indice standard sempur 500 statunitense e i mercati azionisti in generale il mercato azionario infatti è stato sulle montagne russe ultimamente e molti investitori hanno opinioni divergenti su dove ci si stia dirigendo con i mercati in questo momento alcuni prevedono che ci siano nuovi crolli altri si aspettano che l'inflazione si raffreddi rapidamente e che il mercato azionario risalga immediatamente se vi sentite nervosi all'idea di investire nei mercati azionari oggi ragazzi a causa di un potenziale mercato ribassista prossimo o semplicemente a causa dell'attuale livello di volatilità dovreste innanzitutto pensare attentamente a quali sono i vostri obiettivi e a quali sono le vostre opportunità in questo momento innanzitutto ragazzi quello che dobbiamo capire è che cosa va a definire un mercato ribassista o rialzista dovete sapere che i mercati si differenziano in beer market ovvero mercati ribassisti e bull market ovvero mercati rialzisti i beer market sono caratterizzati da pessimismo mercati che scendono e almeno il 20 per cento di crollo rispetto all'ultimo massimo storico raggiunto il bull market invece si caratterizza per ottimismo sui mercati mercati in risalita e il 20 per cento di risalita dopo almeno il 20 per cento di caduta quindi questa è la classificazione però per capire attentamente cos'è un mercato ribassista non possiamo soltanto limitarci a un mero numero ovvero quando i prezzi delle azioni scendono del 20 per cento o poco più dal loro picco di solito questa tendenza ragazzi dura almeno nove mesi nei mercati ribassisti duraturi ma non sempre è così ad esempio il mercato azionario è entrato nel territorio di mercato ribassista anche nel febbraio 2020 a causa del covid ma in quel caso la discesa è durata soltanto un mese prima di allora l'ultimo mercato ribassista prolungato è stato durante la grande recessione del 2008 quella tendenza al ribasso del 2008 durò ben 17 mesi il mercato ribassista nel 2000 invece è durato ben 31 mesi quindi parliamo di due anni e mezzo infine quando si parla di mercato ribassista ragazzi è utile e doveroso parlare di intero mercato con tendenze al ribasso quindi non soltanto sull'azionario ma sull'azionario sull'immobiliare sulle criptovalute e anche sull'obbligazionario generalmente ci sono dei cali almeno nelle prime fasi quello che dobbiamo capire adesso è quindi quali sono le cause dei mercati ribassisti ci sono una varietà di qualità e di dati che possono causare mercati ribassisti ma di solito questi accadono quando c'è una recessione nell'economia reale altre cause invece includono un aumento dei tassi di interesse degli shock ad esempio sui prezzi delle materie prime come il petrolio o il gas naturale come stiamo vedendo in questo periodo oppure quando ci sono dei cambiamenti economici o turbolenze politiche come nel caso di elezioni di grandi paesi come gli stati uniti nel caso dell'attuale livello di volatilità dei mercati le cause sono molteplici infatti generalmente ragazzi una singola causa non riesce a generare un problema che i mercati non sono in grado di superare come quando è successo durante la pandemia covid 19 solo quel problema ragazzi infatti è stato superato come avete visto nel giro di un mese o poco più la pandemia globale infatti ha costretto il governo a stampare molta più moneta il che ha aumentato sensibilmente i tassi di inflazione e ha interrotto le catene di approvvigionamento la cosiddetta supply shock la domanda quindi ha superato di gran lunga l'offerta e i prezzi sono aumentati drasticamente la federal reserve la banca centrale degli stati uniti è stata un po lenta a reagire a questo problema e ha ritenuto che l'aumento dell'inflazione secondo i comunicati ufficiali fosse temporaneo attualmente però abbiamo un tasso di inflazione molto alto e una fed che si è pronta si è detta pronta ad essere molto aggressiva rialzando i tassi di interesse in maniera molto forte per tenere l'inflazione sotto controllo l'inflazione elevata infatti ragazzi dovete sapere che con combinata con l'aumento dei tassi di interesse ha costretto molti investitori ad assumere una posizione difensiva il che ha portato al nostro attuale mercato ribassista attenzione perché ragazzi conoscere un rialzo dei mercati ribassisti è molto importante poiché questo evento comune può danneggiare gli investitori stiamo parlando del cosiddetto dead cat bounce ovvero il rimbalzo del gatto morto cioè quando si inizia a scendere se è un mercato ribassista ci sono comunque delle onde di risalita che possono andare a destabilizzare gli investitori facendo semplicemente credere che il mercato ribassista sia terminato quando così non è un rialzo dei mercati ribassisti si verifica infatti quando i prezzi delle azioni rimbalzano dai minimi per un po di tempo prima di tornare nel trend ribassista principale non esiste una definizione formale di rialzi durante i mercati ribassisti tuttavia molti esperti concordano che quando i prezzi delle azioni aumentano fino al 10 per cento rispetto ai minimi raggiunti si può essere in presenza di questo cosiddetto evento chiamato dead cat bounce e questo rally può durare anche alcune settimane addirittura fino anche a due tre mesi ma perché si verificano questi eventi che sono molto pericolosi per gli investitori e che dobbiamo conoscere durante un calo dei prezzi infatti molti investitori si fanno prendere dal panico e vendono in perdita inviando quindi al mercato segnali che sono contro contro bilanciati dal reale mercato ribassista gli investitori a lungo termine infatti vedono questi prezzi stracciati e acquistano le azioni facendo quindi salire i prezzi una volta che questa domanda però si esaurisce i prezzi delle azioni riprendono la loro tendenza al ribasso ogni mercato ribassista dal 1901 al 2015 ragazzi ha avuto almeno un rally del 5 per cento ogni volta quasi il 66 per cento delle volte quindi due volte su tre c'è stato un rialzo di almeno il 10 per cento gli investitori quindi dovrebbero essere consapevoli di questo evento e pianificare di conseguenza ciò che devono fare l'inflazione infatti attualmente è uno dei problemi più importanti che il mercato sta andando a scontare e secondo molti aumenterà ancora prima di scendere nessuno sa dove va l'inflazione da qui ai prossimi mesi se si parla con gli economisti ognuno ha una sua teoria e si potrebbero ottenere anche infinite versioni diverse alcuni credono che l'inflazione abbia raggiunto il picco e da qui dovrebbe scendere altri ritengono che sia ancora in aumento e l'ultimo rapporto sull'inflazione che infatti mostra un raffreddamento è fuorviante tuttavia altri ancora pensano che il punto in cui ci si trovi attualmente sarà un punto in cui l'inflazione rimarrà alta per molti anni in qualità di investitore ciò che dovresti sapere è poterti preparare al peggio ma allo stesso tempo essere flessibile per trarre vantaggio dalle mutevoli condizioni economiche di mercato che ti si presentano questo potrebbe significare quella il fatto di prendere una posizione più difensiva con il tuo portafoglio oppure potresti costruire una riserva di liquidità in modo da avere fonti da investire lentamente mentre il mercato ribassista continua a scendere acquistando azioni sempre a sconto i tassi di interesse sono un altro problema fondamentale rimarranno ancora così o si salirà attualmente la federal reserve sta aumentando in modo molto aggressivo i tassi di interesse e non vi alcun segno che questo aumento si allenterà fino a quando l'inflazione non tornerà al 2-3 per cento annuo per questo motivo gli investitori attualmente dovrebbero pianificare un interesse più elevato per il prossimo futuro quindi una crescita rispetto ai tassi attuali mentre i tassi di interesse più elevati da soli non implicano un mercato ribassista una curva dei rendimenti invertita infatti prevede che il mercato d'azionario in ribasso sia lungi dall'essere terminato questo succede quando i rendimenti delle obbligazioni a lungo termine sono inferiori a quelli delle obbligazioni a breve termine con la stessa qualità creditizia quindi riferiti allo stesso ente emittente ad esempio uno stato o una grossa azienda gli investitori presumono che guadagneranno un rendimento più elevato sulle obbligazioni a lungo termine poiché è coinvolto un rischio maggiore dato dalla distanza temporale quando i rendimenti si ribaltano si invertono gli investitori sono pessimisti sulle prospettive a breve termine dell'economia visto che la curva dei rendimenti attuali è invertita e si è recentemente approfondita è giusto presumere che una recessione economica sia in servo per il futuro se non è già arrivata ma vediamo attualmente quali sono le condizioni di mercato che caratterizzano il presente nella mente degli investitori le attuali condizioni di mercato infatti indicano che il mercato azionario si trova in un mercato ribassista senza una fine in vista dopo essere sceso al minimo dell'anno a giugno 2022 il mercato è salito di una grossa percentuale compresa tra il 15 e il 20 per cento nei mercati s&p 500 e nasdaq e questo è un classico segno di rialzo dei mercati ribassisti ma poi presidente della fed giron powell ribadito la posizione aggressiva della federal reserve di continuare ad aumentare i tassi di interesse e da allora i mercati sono scesi di oltre il 10 per cento nuovamente ci sono poi altri segnali che il mercato ribassista continuerà vale a dire tassi di interesse più alti con i tassi infatti più elevati le imprese assumeranno di meno e avranno a che fare con meno debiti perché non si potranno permettere nuovo denaro per finanziare le proprie crescite di conseguenza le stime degli utili sono costrette a diminuire e gli investitori cercheranno altre alternative più sicure in cui investire l'unico buon segno attualmente è il fortissimo dollaro statunitense misurato dall'indice dxy un dollaro forte infatti aiuta a mantenere i prezzi delle materie prime in particolare petrolio sotto controllo e ad andare a creare un equilibrio tra domanda ed offerta quindi con una domanda inferiore i prezzi del petrolio inizieranno a diminuire ma a lungo termine ragazzi quali sono le prospettive e cosa bisogna fare come potete vedere in questa immagine bisogna seminare nel primo passaggio per vedere poi crescere i nostri investimenti e seminare bisogna farlo per farlo bene in questo tipo di mercato ovvero nei mercati ribassisti infatti una domanda molto importante che gli investitori hanno riguardo allo stato attuale dell'economia è se dovrebbero riallocare i loro portafogli la risposta a questa domanda è molto complessa e dipende dagli obiettivi di investimento di ciascuno di noi dall'orizzonte temporale e dalla tolleranza al rischio potrebbe non essere necessario fare nulla se hai un orizzonte temporale a lungo lunghissimo termine quindi più di 10-15 anni la storia ha infatti dimostrato che i mercati ribassisti non durano per sempre perché il progresso tecnologico è sempre in fase crescente quindi il mercato si deve per forza riprendere nel lungo termine perlomeno però dovresti mettere i soldi che stai risparmiando dal lavoro per investire strategicamente mentre il mercato si muove al ribasso se sei invece più vicino alla pensione o hai bisogno di accedere ai tuoi soldi nei prossimi cinque anni dovresti invece andare a fare un altro tipo di discorso ovvero assumere una posizione più difensiva ciò potrebbe includere la vendita di alcune delle tue azioni o l'investire in obbligazioni o contanti quindi tenere denaro con l'aumento dei tassi di interesse però bisogna guardare i certificati deposito poiché si potrebbe costituire una perdita comunque in termini reali perché dovete capire che se avete un interesse dell'uno per cento mentre l'inflazione all'otto per cento in termini reali state perdendo il sette per cento quindi ragazzi ciò che bisogna fare è andare a studiare attentamente la strategia di investimento in maniera personalizzata a seconda del tipo di investitore considerando una varietà di temi che partono dall'inflazione vanno a finire alle tecnologie emergenti ai depositi di contante alle criptovalute e così via in funzione come vi dicevo del singolo investitore è anche importante che dire che nessuno sa quando finirà il mercato ribassista quindi prendendo una posizione più difensiva stai dicendo e ammettendo che non ti fidi che il mercato riparta a breve termine in tal modo attenzione perché potresti perdere guadagni significativi se il recupero inizia prima di ciò che hai previsto questo è il motivo per cui bisogna dedicare del tempo alla creazione di un piano di investimento molto dettagliato che valuti la tolleranza al rischio di ciascuno di noi ciò ci consentirà di superare qualsiasi volatilità dei mercati e ci assicurerà di essere pronti a trarre vantaggio sempre quando il mercato si riprenderà ma questa ragazzi quindi è un'opportunità di acquisto per le azioni ogni volta infatti che il mercato azionario scende di un importo significativo diciamo il 20 per cento più di solito sia in presenza di opportunità di acquisto il problema e che nessuno sa dove o quando si verificherà il fondo potrebbe essere almeno 20 per cento come almeno 50 per cento in altre parole solo perché il mercato è crollato del 20 per cento non significa che si riprenderà da qui potrebbe andare a scambiare lateralmente per un po' o tendere ancora più in basso poiché nessuno lo sa un approccio intelligente è quello di calcolare il costo medio in dollari o in euro dei tuoi investimenti ciò consente di investire una piccola parte della liquidità investibile ogni tot tempo predefinito ad esempio ogni mese per esempio se hai 10.000 euro potresti investire 1000 euro ogni mese per i prossimi 10 mesi in questo modo aumentano le tue possibilità di acquistare ai minimi e puoi avere un ritorno più alto nel futuro quindi in generale ragazzi il mercato azionario attualmente è in un mercato ribassista e tutti i segnali economici indicano un soggiorno prolungato dei mercati azionari in questi livelli o anche più in basso come investitore infatti l'ultima cosa che dovresti cercare è quella di prendere una decisione emotiva con i tuoi soldi invece bisogna prendersi il tempo per capire quale aspetto del mercato ribassista è importante in questo periodo rispetto ai nostri obiettivi una volta capito questo si può costruire un portafoglio di investimento e ridisegnarlo cucito proprio addosso a ciascuno di noi in funzione della tolleranza al rischio bene ragazzi spero con questo video di avervi dato una panoramica generale di tutto quello che sta succedendo se questo video vi è piaciuto vi chiedo di lasciare un bel commento lasciate un bel like condividete il video iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti io come sempre vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti